ciao a tutti oggi devo aprire questi due pacchi arrivati per me penso che sia un uovo di pasqua rettangolare o a forma di parallelepipedo non lo so apriamo da più piccolo non so cosa ci sia all'interno però sospetto qualcosa per farmi completare una serie vediamo vediamo unboxing numero uno leggiamo prima perché li prende su questi canali ufficiali non lo so fammi stare zitto a glows in the dark aragon è un'esclusiva bene aragon aragon addirittura c'è più di stalli addirittura c'è la scena in cui va nel mondo dei morti a far mantenere la promessa fatta e non mantenute quindi sono stati condannati bellissimo cioè è proprio bello troppo carino troppo quindi non c'era bisogno del piedistallo perché un po precario come me bello 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 anche se ha speso troppo per questo qui questo gigante non so cosa ci sia ne sono due boh ne è uno e perché uno scatolo così grande per uno legolas bellino assai ma pure questo c'è lo scontrino all'interno ma come è possibile sto fatto no ma pure questo tutti i soldi sta ma io non lo so ma perché si è messo ma a spendere tutti i soldi io non lo so legolas bellissimo pure lui la freccia è storta perché hanno messo male nello scatolo andiamo subito a raddrizzare la freccia cioè il buco per mettere la freccia all'interno invece l'hanno fatto e è storta però è bellissimo pure lui dietro vabbè le sembianze di orlando bloom non le ha però si mantiene si si mantiene una freccia beh morbida come le mani e beh le orecchie da elfo dai ci sta non ci manca solo il nano e che dire belli tutti e due prima invece mi era arrivato l'altro l'amico di frodo alla prossima